buona sera buongiorno buonanotte bentornati su non solo spaghetti weirda il podcast che parla di un sacco di cose ma in particolare di weirda e in particolare oggi parla di 23 che è il nuovo romanzo di simone scicali che abbiamo ospite con noi ciao simone salve a tutti ovviamente non sono solo io sono michele borgogni ma con me ci sono anche marco gergo e ottavia corazza allo ti seguiamo sempre è questa cosa che si segue sempre anche gli ascoltatori è un po ricorsiva e inquietante se devo dire la mia però andiamo andiamo avanti così oggi tratta siamo anche siamo anche in diretta su tik tok sul canale di marco gergo sul profilo di marco gergo quindi magari qualcuno ci seguirà anche in diretta è una cosa molto sperimentale a volemosebbe sperimentale e neanche alle domande che ci verranno poste allora simone come li chiamiamo tik tokini ma chiamiamoli un franco chiamiamoli tutti franco ok ciao franco ci sa un franco che si cagherà però simone ci parli un po di te chi sei noi ti conosciamo ovviamente ma magari qualcuno che ci ascolta non ti conosce simone cicali fiorentino si sentirà nato appunto a firenze il 15 dicembre 71 cioè i miei anni sono un nerd da praticamente dal film della rivincita dei nerd che ho visto al cinema sono sono innamorata tecnologia con war games sono innamorato del fantascio della fantascienza con i confini in realtà per fortuna in replica perché è una cosa molto precedente a me scrivo cose strane come tutti qui dentro mi sembra scrivo cose strane ma plausibili se scrivo sul genere dei ai confini realtà appunto o di black mirror il futuro di domani o dopo domani vicino a noi anche fisicamente scrivo quasi tutto ambientato in italia quattro in quattro libri grossi perché c'ho anche un paio di piccoli ho solo credo tre nomi stranieri e punto vicino nel tempo e nello spazio non astronavi lontane non ho pianeti remoti non ho futuro fra un milione di anni e tu sei stato diciamo finora soprattutto uno scrittore di racconti anzi mi sembra di capire avendo parlato anche con te anche di questo tu ti ritieni comunque principalmente ancora uno scrittore di racconti però sei uscito ora con con un romanzo con con il buon con il buono spero per voi 23 che raccoglie l'eredità e l'ambientazione di qualche racconto delle mie raccolte appunto l'ambientazione come dicevo prima è vicina si parla del mugello del mugello un paesino del mugello che decide lui da chi farsi vedere c'è una sua bolla di realtà diciamo così in cui il tempo e lo spazio sono parzialmente parzialmente alterati nemmeno troppo perché insomma non non si non è comunque un buco nero un wormhole o quant'altro semplicemente è leggermente fuori sincronia dal nostro dalla nostra percezione è come un altro canale della radio basta un piccolo scatto per per raggiungerlo però se non sei sintonizzato non lo vedi chi ci passa attraverso non è sintonizzato non non lo ricorda non lo vede proprio non ci fa caso e mentre chi è sintonizzato non solo è in grado di vederlo di fermarci ma anche di essere chiamato in maniera spontanea ecco a fermarsi quando gli abitanti scelgono scendono sotto un certo numero 23 23 perché restano smettono di invecchiare smettono di aree muoiono solo per incidenti o per malattie non ci sono insomma per morti diciamo così non non di vecchiaia ecco fondamentalmente e il nuovo del sempre fisso e 23 semplicemente è anche appunto il titolo del del romanzo questo paesino succederanno appunto delle cose quando si proverà ad alterarne il l'equilibrio numerico io come come sai no 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 fermiamoci fermiamoci qui su un po di soprannaturale un po di romanzo corale di crescita ci sono un po di cose diciamo che il problema probabilmente come diceva il buon marco è trovare un genere preciso a quel romanzo la però se però se mi posso permettere l'ossessione del genere è più una cosa come dicevo da scaffale da libreria questo bisogno di classificare ma noi qui non abbiamo uno scaffale di libreria quindi possiamo tranquillamente ipotizzare sovrapporre generi perché ripeto ci ho visto fantascienza addirittura il weird il il non so cosa e per me è il weird toscano da cascina toscana lo chiamo perché è qualcosa di di strano e molto particolare io tengo le mie il mio setaccio molto aperto e lo chiamo fantastico e basta appunto è come il castello di morgana che non si fa vedere c'è una parte di horror come in derry c'è un po di strano come il paese di invereri può darsi di dylan dog e decide anche lui da di tenersi occultato a chi non gli piace diciamo c'è cipro ho provato a metterci un po di tutto ecco senza in maniera armonica spero questo me lo dovete dire voi e chi mi legge ma ho fatto ma sono piuttosto orgoglioso contento soddisfatto del mio lavoro nonostante come dicevo a michele che sia la prima la prima volta che mi cimento con il metro del romanzo io sono uno scrittore di racconti pare pare che piacciono pare che piacciono infatti e dico sempre racconti che il metri raccontare è come le barzellette puoi raccontare una barzellette breve puoi raccontare una barzelletta che non finisce più puoi raccontare una barzelletta mezzana ecco io fino all'ora fino all'ora ero su quelle mezzane perché per quelle brevissime ci vuole un brown fa un racconto di fantascienza in 42 parole e adesso ho provato ad allungare un po non arriverò mai al romanzo fiume o alla barzelletta di valter chiari ma insomma penso di offro ho affrontato con timore perché con timore e con critica verso me stesso questa mia opera questa mia opera questo nuovo metro questa nuova impresa perché avevo paura di non essere in grado e poi alla fine diciamo sono riuscito a farlo uscire quindi perlomeno io sono contento io penso che sia siamo contenti anche noi che sono molto contento di averlo detto innanzitutto poi io ti ho scoperto diciamo col primo con la prima raccolta di racconti che hai pubblicato e fin dall'inizio ho detto c'era un racconto appunto del ceppo e mi sono detto questa ambientazione deve essere comunque sviluppata in in qualcosa di più perché secondo me è un è un luogo intorno al quale si possono raccontare veramente centinaia di storie diverse e il bello che se ne possono raccontare di lunghe di corte di lunghissime secondo me senza senza nessun problema senza nessun limite tranne la fantasia ecco e devo dire che a me è piaciuto leggere il romanzo si sente che c'è un respiro diverso rispetto ai racconti che c'è anche uno sforzo cosciente di adattare la tua prosa a quella di un qualcosa di più lungo però non ne esce snaturata per niente quindi ecco non è facile anche mettersi alla prova con qualcosa di diverso qualcosa che non viene forse neanche così naturale rispetto a alle cose che ci si sentono più dentro però secondo me il ceppo ti caratterizza abbastanza anche non so se tu la pensi così e se anche voi la pensate così mi sono affidato ai personaggi i personaggi secondo me hanno hanno la loro voce e quello che dovevano dire l'hanno detto in in più pagine non credo aver cambiato l'identità appunto oi ritmi della gente che 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 al ceppo ci sta quella gente vera gente vera perché mi sono ispirato a mi sono ispirato a gente vera ovviamente non con quelle particolarità che hanno tutti ma una volta che hai di fronte la persona a un certo punto fa quello che deve e fa quello che vuole ci sono c'è uno dei dei colpi di scena io non 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 sapevo non sapevo che l'avrei fatto praticamente fino a credo tre pagine prima perché la persona e lo che la persona che fa quell'atto non l'ha dovuto fare lo voleva fare l'ha dovuto fare ed era la cosa più naturale che che poteva che poteva che poteva fare quindi andrà tutto per conto suo il potevo potevo condensarlo in un racconto sì potevo condensarlo un racconto però questa cosa è nata è nata con il metro del romanzo spero e spero si veda che che non c'è un adattamento forza forzato quanto un lasciar fruire delle cose al loro ritmo e sono cose diverse da quelle dei racconti quelli racconti erano più più forse nate lo sapete l'avete visto e loro però qui c'era bisogno dei suoi tempi delle sue parole delle sue righe e anche dei suoi pensieri qualche volta sicuramente no hai detto la cosa giusta che penso anch'io comunque le tue storie in generale sono molto guidate dai personaggi e in particolare qui nel ceppo secondo me è una cosa che si sente veramente perché io penso che tu ti sia basato molto sull'osservazione anche per creare un paese così particolare perché effettivamente nelle persone che abitano il ceppo si possono specialmente per un toscano comunque come me anche se un po' un pochino più a sud rispetto a te diciamo si notano tante figure che nei paesi si riconoscono insomma che sono molto reali molto vive molto molto presenti cioè sono persone che esci di casa vai che ne so al bar oppure a parlare con il carrozziere o quello che comunque qualsiasi mestiere ci sia e si trovano ancora nei paesi queste figure forse in parte stanno un po' sparendo in parte non lo so però sono molto realistica molto molto belle anche per questo l'idea del paesino fermo nel tempo è precedente anche anche a milio è precedente a pietra mala perché pietra mala no pietra mala è fa parte l'ho trovata nelle fondamenta di che stavo scavando per per il per il ceppo e ci stava benissimo ce l'ho ce l'ho lasciata ce l'ho lasciata il racconto pietra mala e però chi di noi non è passato da un poesino che fosse di montagna al mare a distanza di 10 15 anni e ci ha trovato le stesse facce le stesse case cambiate pochissimo case vecchie che sembrano costruite non 20 50 100 anni fa ma sempre si sono sempre state tutti credo e quindi io ho solo preso fatto un riassunto di questi paesini e l'ho portato nel mucello mentre ho spostato di qualche chilometro qualche paesino che esiste davvero e l'ho spostato leggermente appunto dicevo nella realtà dalla realtà ma non ho fatto un lavoro non ho fatto una forzatura delle delle meccaniche della vita di paese spero insisto come sempre no si vede che è tutto molto naturale infatti io come sai amo la naturalezza di questa ambientazione nonostante ecco si parli di nonostante ci sia molto sovrannaturali in mezzo e tutto soprattutto inventita è tutto scorre in modo perfettamente equilibrato naturale ed è una cosa che ho apprezzato molto e appunto è la potenzialità dei racconti sul ceppo espressa al massimo però appunto come diceva giustamente michele qua ci stanno un miliardo di storie ed è assolutamente la cosa che mi auguro personalmente perché è proprio un luogo di respiro nel senso che si torna un po' alla parte di sé quella che non ha bisogno di difese è veramente un bel posto dove passeggiare dove trovarsi e tutto nel senso racchiude quello a cui l'essere umano può tendere vabbè fatta eccezione una certa persona si vedrà all'interno delle pagine quello è stato un colpo di scena che mi ha inchiodato non me non me lo sarei aspettato mia ed è bello perché comunque vabbè non cerco di di arrivarci onestamente essendo sentendomi in qualche modo ma ovviamente lo dico entrando in punta di piedi con il massimo rispetto e senza alcuna pretesa ma sentendomi parte di quel mondo perché appunto tu riesci a coinvolgere il lettore almeno a me hai coinvolto nel senso che per me è stato proprio un momento come ti dicevo di respiro quella scena in particolare mi ha fatta arrabbiare ho detto ma scusa ma com'è possibile ma che cazzo io ti tiro giù l'esistenza ma per sempre come osi hai trasmesso il senso di sacralità di quel luogo e la massima bestemmia che appunto tale situazione tale persona fa no l'ho dovuto fare ti posso dire che devo dire che quello l'ho dovuto fare perché lo voleva il ceppo è giusto ma è alla fine la realtà perché comunque è quello che era necessario era necessario e comunque da vita ecco non so è completo secondo me è proprio a una natura quasi di ecco diciamo che quel colpo di scena serve a togliere un po il ceppo dall'iperuraneo perché il fatto che stia sempre no poco poco più in là no della percezione appena fuori dalla percezione non lo so mi dà proprio questa sensazione di luogo in cui esiste la forma più pura delle cose ad esempio ciascun personaggio incarna una ogni personaggio ha una qualità unica indispensabile che vabbè anche lì no mi piace molto vabbè mi sento filosofica stasera cos'era ciascuno in base alle sue necessità e da ciascuno in base alle sue potenzialità ed è l'incarnazione di questa cosa questa è politica questa è politica non è filosofia io sto parlando di filosofia in realtà lo diceva lo dicevano anche in antica grecia questa cosa quindi però qua non si parla di politica diciamo non sto dicendo nulla sto dicendo che mi piacerebbe vivere in un non è veramente bello ho ritrovato parte della mia infanzia le figure no come dicevi tu io non sono cresciuta in toscana però comunque la come dire l'incarnazione no del odio mi come dire ho dei problemi con gli accenti e archetipi archetipi sì per me sì ok gli archetipi delle delle persone anziane delle persone a cui si vuole bene anche se sono burbe ci sono tutte ed è bello nel senso è bello e è anche estruggente perché comunque appunto noi viviamo leggermente più in là e dove viviamo noi è spezzato no invece lì c'è un po la società ideale ecco secondo me fino a un certo punto perché come sai la prima sorpresa doveva essere quella però capisci di quella della società e degli abitanti io spero che quella sia stata una sorpresa ma di quelle come che fa io sono innamorato della saga di so perché quando arrivi in fondo ti batti la mano in fronte e fai ecco da dove veniva quello ecco perché ha fatto così e io spero che voi che avete letto e chi leggerà il mio romanzo dopo aver letto qualcuno dei racconti faccia ecco perché in l'onda ci ha detto quella cosa capito è per mi piace dare mettere il pepe anche all'inizio del 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 pasto anche nell'antepasto in modo che poi ti torni al momento giusto ecco non so come come altro definire questa questo questo gusto di fatto infatti diciamo diciamo che il la pietra migliare in realtà è il cadavere della prima scena no sì esatto esatto sicuramente è anche un cioè questo romanzo è anche un mondo che si apre che si svela sempre di più non so se si svela solo al lettore o si è svelato anche a te in certi versi cioè sei una persona comunque che ha tutto già pronto fin dall'inizio a parte il colpo di scena che hai detto prima cioè sai già quali sono tutti gli sviluppi dei tuoi personaggi le tuoi le dinamiche oppure qualche volta ti stupiscono allora io mi stupisco molto spesso di quello di quello che viene fuori perché lo stesso racconto milio doveva essere più breve quattro pagine ambientato solo con un vecchierello che doveva essere un antico romano rimasto incastrato in un paesino che veniva riconosciuto per via di come scolpiva delle facce che scolpiva pensate e poi è diventato quel miglio lì che ne già conto di inaspettatamente che poi è diventato quel miglio che avete voluto io ho comunque diciamo che ho una 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 linea abbastanza dritta il colpo il colpo di scena finale è arrivato abbastanza inaspettato ma sapevo che sarebbe dovuto concludersi in una maniera molto simile molto simile ho anch'io le carte che hai tu dietro ecco e quindi diciamo il il ritmo il ritmo delle scene voglio dire che l'avevo definito prima però la strada da percorrere ce l'avevo come funziona il ceppo lo so dal 2019 credo come andrà a finire il ceppo lo so dalla stessa della stessa data ho una tabella con gli anni di arrivo di tutti gli abitanti con una breve biografia anche di quelli che non si sono visti in maniera danno da non poter da non contraddirmi fondamentalmente da poter inserire il personaggio giusto al momento giusto ci saranno delle altre storie tante storie perché sono tante ho fatto ho aperto tante porte e non tutte le e non tutte le ho chiuse durante durante il durante i racconti e durante questo romanzo sono tante cose sono rimaste in sospesso nonostante che spero che penso che pensi di aver dato un romanzo che inizia si spiega va avanti e finisce come deve finire io sono convinto che si possa leggere da per conto suo senza aver preso la strada per il ceppo nessuna delle altre raccolte precedenti pianifico ma fino a un certo punto sono i personaggi che facciano sono i personaggi che facciano che carattere hanno che fa il posto come è fatto e la storia di cosa parla e dove andrà a finire quello che c'è nel mezzo mi sorprende anch'io alle volte guarda siamo piuttosto sorpresi in generale perché come ti dicevo la caratteristica è che proprio te procedi vai avanti e come lettore dici ma cosa sto leggendo cioè nel senso ti stupisce costantemente perché e lo dico in maniera positiva e cioè tu sei lì dici cosa sta succedendo qui è una specie di thriller c'è della tensione no anzi c'è della fantascienza a un certo punto le cose scompaiono quello non vede i personaggi i personaggi non lo vedono c'è tutta una cosa che a un certo punto sei lì e vai avanti proprio con la volontà di capire cosa sta succedendo che quindi non tutte le porte siano state aperte io sono convinto e questo non può che farti onore ovviamente diciamo che è una sorta di di twin peaks del Mugello cioè tu vai avanti non sai fino in fondo cosa c'è che succede la twin peaks in Mugello che sarà il ceppo ecco adesso non lo so però non c'è Laura Palmer c'è Ivan questo personaggio che fa molte ripressioni è un uomo che legge molti testi divulgativi e poi dai faccio la domanda quella solita quanto c'è di te nel personaggio di Ivan o come 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 dico spesso a tutti i suoi difetti e pochissimi dei suoi pregi non ho la capacità deduttiva che ha lui non c'ho la prontezza di riflessi nella faccia a culo diciamo la faccia di faccia di tolla come dite voi al nord che che loro al nord che c'ha che c'ha lui non c'ho la competenza umana che ha lui però c'è tanto lui è abbastanza nerd ve ne siete accorti che è poco più vecchio poco più vecchio di noi poco più vecchio di me e ha visto ha letto grossomodo le stesse cose che abbiamo letto noi credo e lui è partito un po più avvantaggiato lavora in un lavora in un campo di creatività anche lui quindi qualcosa di quello che vorrei essere perché io lavoro in un posto è tutto tranne che creativo c'è quindi qualcosa sì cerco cerco di essere una cerco ho cercato di renderlo un altro perché anche lui come tutti gli altri personaggi deve avere una sua voce deve avere una sua personalità che per forza non deve essere la mia perché sennò scrivere una biografia un'autobiografia con 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 più guai di quelli che fortunatamente ci si cerca sempre di scrivere un personaggio che sia più interessante di come siete c'è c'è tanto c'è tanto del del dell'ansia sociale credo anche che lui è che non capisce come gira come gira e si sente l'ultimo arrivato per l'amore di dio però non 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 ho i suoi pregi ecco non c'ho i vantaggi i vantaggi né né fisici né 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 cerebrali che a lui e se si è fermato lui e non io e al ceppo un motivo c'è che serviva lui al ceppo e non e non si muove io penso comunque si adatta molto bene intelligente di riflesso secondo me esprime la stessa intelligenza dell'autore per esempio ho apprezzato tantissimo un espediente e non voglio spoilerare che è stato utilizzato nel momento nel momento in cui il personaggio acquista un oggetto in particolare lì al negozio di agricoltura eh lì al consorzio quello praticamente cambierà le sorti eh della situazione ma eh devo dire che secondo me è un tocco di genio cioè bellissimo ma ecco quello sono io quello invece sono io non riesco a uscire metà del gusto del giallo è quello ecco eh quindi eh anche perché è un più che un giallo è uno speculativo devi capire come come funzionano quelle cose cosa sta succedendo quindi la parte gialla è su pure thriller perché non c'è un un assassino ben definito c'è un fenomeno che tu non capisci che poi alla fine in qualche maniera capirai e che però eh loro loro devono riuscire a ricostruire non so se conoscete lo scheletro impossibile di 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 urania non mi ricordo mai robson hobson non ricordo come si chiama dove ci sono questi che trovano uno scheletro sulla luna e devono capire come c'è arrivato per esempio una ed è sono cinque romanzi i quali sono arrivati tre in italia eh sono forse tradotto anche gli ultimi ultimamente che però sono esclusivamente di ricostruzione speculazione scientifica e io è una delle cose delle cose che mi piacciono di più il il delitto il delitto scientifico o il ricostruire come mai è successo queste cose si vede che mi è piaciuto perché ho cercato di mettere anche quello all'interno del lo stesso cosa che potrebbe avere delle delle a delle sfumature soprannaturali a tante sfumature umane per fortuna e però c'è anche dello scientifico delle spiegazioni scientifiche a quello che succede e verranno verranno tirate fuori verranno dette verranno accertate in qualche maniera per quanto possibile io penso una domanda scusami Marco vai pure vai pure no no io volevo soltanto sapere se quanto ti piace la fisica quantistica perché c'è in parte lì come diciamo linearità del ragionamento c'è molto di fisica quantistica perché se lì dici sì va benissimo è tutto scientifico ma che cazzo è cioè capito è un po' il senso è un po' quello lì la fisica quantistica è più filosofia secondo me che che scienza e tant'è vero che io ho scritto un racconto in probabilmente la mia ultima raccolta quella di di marginali per intenderci che come che spiega che si intitola cercando il gatto di shoving in tutti i posti sbagliati o qualcosa del genere sono sincero che parla di come mai io non trovo calzini nel cassetto e mia moglie sì e lo spiega con la fisica quantistica sul paradocio di schrodinger l'interpretazione di non mi ricordo mai di dov'è mi viene viene sempre amsterdam ma non è amsterdam però insomma della probabilità che un oggetto sia effettivamente dove lo cerchi e quindi la spiegazione cioè mi piace tanto la fisica quantistica perché il fatto che l'osservatore colui che descrive un oggetto riesca in un qualche modo a stabilizzarlo e a crearlo per me è fantastico è l'equivalente del del verbo che crea è l'equivalente del verbo che crea perché se se tu osservatore fai in modo che fai in modo diciamo determini che un oggetto sia nel tal punto se lo determine se lo osservi in maniera abbastanza qualificata poi stabilire che in quel punto poi crearlo evocarlo e riunisce la fisica la fisica più più avanzata con con la magia con la spiritualità con il se con non so con quante altre cose il fatto guarda ti avverso se lanci un assist del genere mi viene proprio in mente il testo di robert lanza che il biocentrismo e ci sono due testi pubblicati dal saggiatore di robert lanza che uno scienziato di medicina rigenerativa è considerato uno dei più grandi scienziati del mondo il mondo tra l'altro che ha scritto due testi sulla teoria del biocentrismo cioè che fondamentalmente facendo riferimento anche alcune teorie legate alla fisica quantistica dice proprio questo che non siamo cioè che è il pensiero cioè l'osservatore che crea ciò che esiste fondamentalmente e ovviamente te l'ho riassunto proprio in maniera diciamo tra virgolette turistica proprio super sintetica ma è estremamente interessante dice proprio quello di cui tu stai parlando ovviamente è una speculazione filosofica come dici ma la visione comunque un modello teorico ipotetico che che secondo me non è del tutto campato per aria se posso permettermi di estremamente affascinante il gatto di schoedinger che che è vivo e morto fino a che qualcuno non lo guarda dici se c'è un pensiero se c'è adesso una creatura su un pensiero superiore che deve che riesce a determinare la vita o la morte solo con l'osservazione di un animale secondo me si può essere filosofia ma anche un atto di voglio di creazione superiore ma di determinazione di decisionalità del anche se inconscia del dell'universo c'è un libro di odio non mi ricordo si intitola non è upgrade e quell'altro di sempre di crouch e dove avviene il viaggio tra universi paralleli che avvengono contemporaneamente copenaghen interpretazione copenaghen attraverso la determinazione e la focalizzazione su un determinato conscia inconscia su determinati aspetti della realtà non ti sentiamo più simone non ti sentiamo più fino a dove mi avete sentito chiedo scusa pronto ok mi senti sì no stavi stavi parlando stavi parlando appunto di questi universi paralleli ok e poi a un certo punto sei scomparso dark matter dark matter si intitola dove dove si determina dove questo tizio viaggia ad universi paralleli che sono possibili sono possibili interpretazioni copenaghen marco mi sono ricordato determina che gli universi paralleli sono possibili e creati ad ogni scelta quindi è possibile anche il viaggio nel tempo guarda se possiamo fare all'indietro nel tempo solo non torni nel tuo torno in quello che hai creato focalizzandosi dicevo viaggio nel tempo focalizzandosi su aspetti della realtà in maniera forte in maniera cosciente in maniera cosciente impedendo di vedere altro che quello quindi anche anche lì c'è una spiegazione scientifica per il viaggio per il viaggio per il viaggio per il viaggio di universi paralleli è sempre sulla fisica quantistica e sul ruolo dell'osservatore per me questa cosa è magia è magia anche nel senso di una cosa che ti stupisce perché è bellissima è magica fantastica non solo filosofica quando la scienza sfocia nella magia e nella filosofia ecco tornando al discorso che faceva prima Marco che facevi prima anche te effettivamente ci si stupisce leggendo quello che scrivi no non solamente qui nel ceppo ma anche in nei tuoi racconti per esempio secondo me ci si stupisce proprio perché la tua è una scrittura molto libera non ti poni di fronte al foglio bianco e dici ora scrivo un fantasy con i draghi oppure non ti poni a scrivere un horror con i licantropi cioè non segue una formula e credo che uno dei problemi diciamo della narrativa di oggi sia il fatto che ci leghiamo molto a dei trop a delle strutture già rodate già esistenti ognuno scrive un po' nello stesso modo perché la buona scrittura tra virgolette ovviamente ci impone di scrivere in un determinato modo con determinati passaggi della trama eccetera eccetera ecco tu questo non lo fai secondo me e credo che sia uno dei tuoi punti di forza perché hai una scrittura libera curiosa avvincente non ti poni limiti e il fatto di porsi dei limiti in partenza secondo me penalizza sempre un po' lo scrittore e quantomeno gli toglie un po' di personalità io scrivo allora io quando leggo qualcosa voglio essere stupito e imparare 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 sempre si impara da tutto però quando cerco una distrazione guardo un film leggo un libro voglio essere stupito voglio essere sorpreso e siccome io mi pregio mi pregio io ho come unico punto di orgoglio che scrivo cose che mi piacerebbe leggere non non ce la faccio a seguire mi piace mi piace quando stupisco il lettore anche quando mi stupisco anch'io di quello che ho scritto perché a volte succede a volte quando dici guarda dove sono arrivato con questa con questo ragionamento non me lo sarei mai aspettato è successo a tutti a tutti gli scrittori penso che sia capitato di arrivare in un punto che non si aspettavano io mi stupisco mi piace tantissimo quando porto il lettore non solo in un posto in cui non si aspettava ma anche a chiedersi oh come ci sono arrivato oppure cosa c'è oltre quando ragiona su quello come mai l'ho sorpreso quando gli ho fatto fare la strada che fa tutti i giorni a un certo punto gli faccio fare una curva un giro particolare si resta accanto alla realtà però gli ho fatto vedere un angolo nuovo della realtà quindi il fatto dello stupore cerco di evitare i cliché cerco di evitare le strade già battute per forza e questo mi porta per forza a non scrivere secondo i canoni i dieci comandamenti della scrittura il pov in tre punti dovete evitare queste tre parole le parole che finiscono gli avverbi dovete evitare il salta beccare da un tempo all'altro ho racconti in cui il tempo si incrocia che ci sono tre flashback uno dentro l'altro e spero, mi pare che funzionano funzionano ecco ho le prove che funzionano le prove attaccate al muro lo sapete voi che siete qui che questi racconti funzionano e sono piaciuti quindi il fatto di non... Sì ma infatti scusa e ti interrompo secondo me a volte manca la volontà di osare perché molto spesso noi tendiamo a vedere il lettore come qualcuno che potenzialmente vuole vedere soltanto determinate cose vuole leggere solo determinate cose mi viene in mente l'immagine degli estremisti della musica country nel film dei Blues Brothers cioè capito facciamo solo la musica dei due tipi c'è il country e il western in realtà molto spesso c'è il lettore che vuole leggere qualcosa di diverso questo e io sono convinto di questo anche perché tu resti piacevolmente sorpreso dopo che leggi Cicali resti spiazzato ma resti spiazzato ma felice cioè capisci cosa voglio dire certo certo che capisco il discorso del leggere sempre le stesse cose è normale è naturale la familiarità conforta aiuta i bambini si fanno raccontare sempre la stessa favola anche se è terribile perché sanno già che finirà bene sarà che sanno che qualcosa che già gli piace e che finisce bene è confortante quanto di migliore c'è nonostante ci sia nonostante il brivido del che so della matrigna che avvelena Biancaneve però a un certo punto bisogna crescere bisogna affrontare delle cose che non conosciamo bisogna seguire percorsi che non abbiamo mai seguito io a me piace a me piace c'è chi ha i suoi comfort i suoi percorsi nel bosco che segue volentieri io non ce la faccio non ce la faccio a seguire sempre la stessa strada un pochino devo deviare sempre lo stesso lo stesso le formule lo stesso la sorpresa lo stesso il punto di vista diverso lo faccio più per me che per il lettore io se mi fa io lo faccio anche tanto per il lettore perché se no non pubblicherei non non proverei a farmi a farmi leggere ma lo faccio perché piace a me lo faccio per condividere qualcosa che a me piace di cui sono orgoglioso e e che vorrei vedere più spesso la la sorpresa l'ingenuità anche dell'affrontare uno scritto con vabbè chi se ne frega delle 3000 scuole di scrittura che mi dicono che io non posso avere questo personaggio che parla così no se quel personaggio nella tua testa nella tua testa che è l'unica cosa che conta al momento della scrittura parla a quella maniera personaggio parla così parla così deve essere plausibile deve essere plausibile rigorosamente reale cioè non so se la sfumatura è molto sottile tra quello che che potrebbe essere quello che deve essere al momento della scrittura al momento della scrittura non del della trama io cerco di trattenermi quello che potrebbe essere nella trama ma non me ne frega niente di quello che deve essere al momento della scrittura ci sono cose che suonano meglio e che suonano meglio che sono giuste quando le scrivi e ti devi basare su quelle la metà della scrittura è cuore e sorpresa è cuore e sorpresa perché se fossero tutte uguali le storie sì qualcuno sarebbe contento di avere diecimila versioni di boh Twilight io no la prima volta che l'hai letto basta ok abbiamo capito che a questa ragazza piacciono i vampiri e poi poi cosa c'è di particolare niente io cerco qualcosa di strano qualcosa che faccio anche pensare magari ma io voglio sorprendere mi piace sorprendere mi piace avvincere e portare la gente per mano per mano non costringendola in un posto dove non sono mai stati in un posto in cui magari può piacere tornare ma magari attraverso una strada diversa perché se torni al ceppo ci tornerai farai un percorso diverso per tornarci un percorso diverso per andare via e vedrai delle parti del ceppo che fino ad ora non hai visto sono metodico anch'io io sono dei posti dove nello stesso ristorante ordino sempre lo stesso menù però a volte è bello sperimentare provare due gusti nuovi quando vai all'estero per forza devi assaggiare i piatti locali si va apposta in viaggio ecco per me i racconti sono i racconti quello che scrivo è come un viaggio nel quale io guarda qui c'è questo non l'ha mai provato dai provalo non te l'aspettavi che fosse buono così semplicemente la novità l'onestà l'onestà soprattutto di dare cose che sono piaciute a me non è che se mi paga il ristoratore ti faccio assaggiare una cosa che a me ha fatto schifo ecco capisci una cosa che apprezzo moltissimo del tuo stile che rispecchia molto la tua personalità ecco io penso che uno scrittore un artista sia davvero artista nel momento in cui riesce ok sto dicendo una cosa che può sembrare banale però in cui riesce ad esprimere davvero se stesso nel senso che io ho la fortuna di conoscerti di persone insomma qui è una chiacchierata tra amici ed è una cosa bellissima sono onorato di essere qui tra voi ecco lo sapete da quello anche se non ci conosciamo da tantissimo però da quello che ho visto sei una persona che crea tantissimo appunto come dicevi tu è anche una tua abitudine quella di non uscire mai senza qualcosa da questi negozi pieni di cose interessanti però sei sempre lì a creare io mi ricordo mi è rimasta impressa tantissimo anche la busta le buste che appunto ecco le buste che hai realizzato con il logo di eh sì infatti quindi con il logo del sodalizio Wallsmith la lampada anche la la struttura che hai costruito mi viene da pensare degli scalini sei quella che hai costruito di recente come? espositori dici? no non l'espositori è di recente se non ricordo male su Instagram ho condiviso una foto ti faccio una battuta c'è stato quasi un giro che il prossimo marginale al cicali viene diventato un cyborg quindi può darsi ah sì può essere lo sapete comunque perché infatti cioè io ho visto il Simone Cicali in fiera soltanto una volta e mi ha stupito la sua organizzazione la sua solerzia cioè io ho visto ho guardato ho detto se uno crede di saper vendere quando vede Simone Cicali dici no io non non so vendere lui è organizzatissimo il cartello elettronico con la scritta io quello non lo dimenticherò mai no ma infatti è tantissima roba e mi chiedo dove l'hai trovato io molto spesso mi trovo a pensare a Simone Cicali e domando dove ha trovato quello lì è fantastico non hai altro da pensare sì ho altro da pensare ma penso anche a Simone Cicali con questo cartellino elettronico con la scritta cioè è bellissimo quello lì lo vendono per le auto e io lo utilizzavo anni fa con sopra scritto rispetto alla distanza di sicurezza io lo metto a Simone Cicali attaccato dietro fantastico lo potresti mettere anche in fiera rispetto alla distanza bellissimo no ma è una figata ma poi appunto è incredibile perché sempre per rimanere sull'orizzonte filosofico segui allora i tuoi racconti sono cioè tu sei come il dio orologiaio no nel senso che ogni ogni racconto funziona come un orologio tu lo metti in moto e questo orologio va l'espressione più riuscita vabbè ma lì è una preferenza mia è il ceppo perché proprio mi sembra di sentire proprio quel mondo etichettare ma anche i singoli racconti sono dei piccoli orologi bellissimi che scintillano ed è bellissimo perché appunto qui si vede proprio la sincerità e la trasparenza del tuo modo di affrontare le cose del tuo modo di affrontare l'arte mi viene da dire anche se ormai è una parola super abusata però in questo caso è davvero arte e anche essere artigiani ecco questo è essere artigiani a 360 gradi perché tu comunque vai a a realizzare essendo fedele a te stesso vai a realizzare delle delle realtà che si muovono da sole e questo rispecchia secondo me io non ti conosco perché ci conosciamo da pochissimo però secondo me rispecchia questa tua costante idola creatrice creativa e proprio meccanica un po' steampunk da un lato la parola che cerchi è nerd io l'ho detta tre volte penso ed è stata la terza parola che ho detto qui dentro a me piace sapere le cose come funzionano io ero uno di quelli che i giocattoli li smontava mi piace sapere le cose mi piace sapere cosa c'è dentro e cosa c'è dietro e anche i miei racconti spero che ti spieghino cosa c'è dietro dietro tanti fatti naturali la ratifica degli accordi truman è un cosa c'è dietro due per è un cosa c'è dietro il iddqd è un come funziona capisci tutte cose che comunque ho lavorato e ho studiato insomma per dire mi piace lavorare con le mani e comunicare questo guarda guarda carino guarda tutte queste rotelline che hai nella realtà che il mondo dietro c'è queste rotelle qua non è spero di no per tante ecco però insomma mi piacerebbe che la gente pensasse e se fosse vera questa cosa ecco perché mi piace dare come dico sempre spiegazioni strane a cose plausibili spiegazioni plausibili a cose strane il fatto del come funziona il mondo la realtà il mio mondo che ho creato in quel racconto per me è una grossa soddisfazione farlo capire al lettore e se il lettore mi piace come la mia piccola Wunderkammer con i suoi piccoli otomi sono molto contento ecco sono il massimo che posso avere quello di essere apprezzato per per come per quello che scrivono ma quindi stai realizzando una sovra cioè stai facendo un grandissimo dito medio al rasoio di Wunderkam perché quegli zoccoli potrebbero essere zebra potrebbero essere demoni sì qualche volta sì qualche volta sì qualche volta possono esserlo sarebbe più divertente e sarebbe soprattutto ti sorprenderebbe se lo fossero capito è quello che voglio io se quella volta che ah vabbè la solito cavallo ti trovi una zebra sei sorpreso ed è quello che io cerco di fare ah ecco c'è un cavallo ed è plausibile c'è una zebra ed è plausibile che ci sia una zebra ecco perché c'è una zebra io spero di suscitare questi sentimenti qua nel lettore la visione la visione obliqua come ha detto qualche volta Michele sul mondo o sul o sul mondo anche sul mondo che ho inventato mi piace se il lettore fa ad un certo punto dicesse ma potrebbe anche essere e dopo essersi sorpreso quindi mi piace il plausibile e per questo io di fantasy ho scritto pochissimo perché non riesco a correlarmi con il gusto della magia che le cose che sono così senza una spiegazione lo scritto del fantasy non verrà mai fuori perché non piace a me quello che ho scritto in primo luogo quindi ti posso fare una domanda apparentemente un po' cattiva non lo leggerete quindi allora apparentemente c'è un ragionamento dietro faccio una premessa allora tu comunque è da qualche anno che scrivi in maniera molto seria hai scritto tre raccolte di racconti hai vinto due volte il premio come miglior opera weird in self publishing diciamo a marginalia e prima al libro da you got con le tue raccolte di racconti hai scritto un giallo sei penso comunque diciamo grazie un punto di riferimento anche nella narrativa weird hai vinto comunque due volte un premio importante comunque alla manifestazione più importante credo che ci sia in Italia su questo settore hai ricevuto elogi da scrittori anche importanti sempre rimanendo nell'alvio della scrittura indipendente del self publishing come ti pare secondo te e questo mi ha spesso secondo te mi ha fatto molto contento cosa ti manca per arrivare tutte queste cose gradino più in alto ancora se ti manca qualcosa cioè perché come no 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 io ti ho detto siccome sei un punto di riferimento come sai come sapete non sono una persona che considera il self publishing inferiore all'editoria tradizionale quindi non è un discorso di qualità è un discorso di tra virgolette successo cioè è una questione di pigrizia del lettore è una questione di puzza sotto il naso di chi pensa che il self publishing non sia non sia all'altezza dell'editoria tradizionale oppure è semplicemente il fatto che il lettore medio è abituato a leggere altro e non gli interessa essere stupito sì 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 il mercato che abbiamo il mercato che abbiamo per i racconti è molto ristretto io sono fondamentalmente uno scrittore di racconti il mercato che abbiamo in Italia per i racconti è molto ristretto a meno che non siano di genere di genere quindi quello che ho fatto io di pubblicarmi una prima una poi tre raccolte di racconti di generi diversi perché si va dalla fantascienza pura al fantastico all'horror c'è anche dell'horror è una cosa che una casa editrice su un autore solo in Italia è molto difficile che faccia soprattutto se gira su diversi generi come cerco di fare io io dico sempre confine in realtà perché confine in realtà è una serie antologica in cui c'era tutto c'era si andava dall'horror davvero alla fantascienza serie antologiche monotore non si fanno in Italia pochissime su diversi cose con diversi generi all'estero ce ne sono di più all'estero ce ne sono di più e anche il singolo racconto è più vendibile sul mercato diciamo sul mercato anglosassone sul mercato anglosassone io non saprei scrivere altro diciamo così non saprei scrivere diversamente per accontentare un mercato non è il mercato anche se quando vendi fa piacere perché c'è qualcuno che ha investito in quello che hai fatto ti ha dato della fiducia ti ha dato della fiducia e gli è piaciuto come l'hai posta o quello che ha scorso ha visto in quarta di copertina nel risvolto o scorrendo le pagine gli è piaciuto qualcosa che hai scritto manca manca la fiducia nel self tantissimo come dicevi perché i self c'è questo l'abbiamo visto tutti nelle ultime polemiche i self sono per tutti della gente che non ce l'ha fatta da altre parti perché non era in grado perché non era incapace perché non aveva una qualità perché non aveva un editing no queste cose non sono assolutamente vere la stragrande maggioranza la stragrande maggioranza no ma diciamo buona parte dei self ha un buon editing c'è un'ottima qualità c'è un'ottima cura investe nel proprio lavoro cose che ad esempio a livello qualitativo le case editrici non fanno quasi più quelle non di nicchia le measure diciamo così non investono a livello qualitativo investono a livello di mercato se il tizio che viene da Wattpad ha fatto non so quanti milioni di download ne facciamo un libro perché siamo sicuri e vendremo anche il libro se il vannacci che ha fatto il self ha scaricato o scaricato tanto facciamo anche quello e arrivano in libreria arrivano in libreria e dove poco di più ma vendono poco di più ma vendono tanto è più di me ma ci sono dei self che davvero rivaleggiano con alla grande superano qualcuno dei finalisti di piano strega a livello di copie perché perché non c'è un a livello perché è un discorso di commerciale io mi sento molto fuori dalla parte commerciale perché piaccio agli addetti ai lavori piaccio a chi azzarda a chi azzarda a provare un self piaccio a chi azzarda a leggere un racconto di chi è questo Cicali che ma che cosa scrive e non lo so capito che genere scrivere ma un po' di tanti è complicato da diciamo così vendere tu mi hai fatto il discorso di successo il successo da noi si misura in vendite ho avuto ho avuto i miei premi ho avuto le mie soddisfazioni ho avuto delle recensioni bellissime ho avuto un sacco di di soddisfazioni emotive e professionali perché se diciamo così come persone umane perché ho incontrato gente bellissima che mi dice gente bellissima gente capacissima grandi scrittori che mi hanno detto mi è piaciuto quello che hai scritto e uno alza le macchie a livello di di soddisfazione per uno scrittore l'essere letto e essere apprezzato e quanto ci possa essere il successo commerciale non ci contavo non ci conto non solo non ci diventerò ricco con quello che scrivo ma non credo neppure che ci farò mai uno stipendio però io sono c'è gente che ha hobby più dispendiosi e che gli danno meno soddisfazioni io sono abbastanza contento sì il perché è perché non non siamo mainstream non siamo mainstream cioè è un passo per il mainstream per me è molto difficile perché il mainstream difficilmente ti sorprende il mainstream ha delle regole delle regole ben ben decise ben precise anche si faceva il discorso delle soppopera con Love Boat si incontrano si piacciono litigano si rimettono insieme queste sono tutte le puntate di Love Boat per dieci per dieci coppie a puntata cioè è complicato è abbastanza facile la cosa che mi ha fatto ridere però è difficile sorprendere all'interno della trama del genere su le varie gli hashtag che vanno messi nei libri per far capire alla gente di cosa si parla cioè io sono assolutamente a favore che la gente legga quello che vuole e ci mancherebbe cioè se una persona vuol leggere sempre il cappuccetto rosso tutta la vita va benissimo liberissimo di farlo però mi fa un po' ridere il fatto che ci siano gente che comunque cioè l'hashtag per esempio friends to lovers enemies to lovers queste cose qui che sostanzialmente ti spoilerano già come va a finire cioè sai che all'inizio sono nemici e poi si mettono insieme e io la ritengo una cosa un po' fuori sì la ritengo un po' una cosa fuori fuori di testa cioè perché dobbiamo leggere una cosa che so come va a finire però vabbè sì no esatto esatto c'è un ragazzo diceva ma io sto leggendo un romanzo in cui hanno rapito un bambino esatto e non si sa che fine ha fatto se fuori dalla coettina mi ci mettono cioè secondo me la gente forse vuole le cose più semplici non so che altro quello che volevo dire io prima era questo e pedofilia forse posso aiutarlo troppo complicato troppo troppo intelligente non lo so se è giusto dire così perché è rassicurante perché è rassicurante una cosa che capisci subito una cosa che rapiti ma la meraviglia cioè su facebook ci sono i test scopri se solo l'8% della popolazione umana riuscirà a capire queste cose sono 2 più 2 uguale cioè perché oh allora sono l'8% è rassicurante i gialli quelli facili sono rassicuranti perché soprattutto sono non so coccolano l'io del lettore e ci sono arrivato prima del giallista sapere che cosa leggi e dove andrà a finire insisto vogliamo raccontarla ancora questa favola a questo bambino io no io non ce la faccio io mi annoio molto presto anche a raccontarla la favola non solo a sentirla allora i tuoi lavori Simone sono tipo 2 più 2 fa 5 e ti dimostro perché e ti dimostro che ho ragione e che il mondo sta per finire per questo grazie questo è quello questo è quello che volevo dire se ci sono riuscito se ci sono riuscito è un penso che sia una sfida per il lettore e anche per lo scrittore insomma quindi è bello anche questo confronto intellettuale che porta a a una crescita secondo me un po' un po' di tutto quanto e come dicevo prima secondo me sei un punto di riferimento anche perché in qualche modo spingi lo scrittore indipendente a cercare di migliorarsi a cercare di trovare strade nuove anche per promuoversi anche perché giustamente dicevo Marco sei bravo a vendere sai scrivere sai 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 creare cose nuove intelligenti quindi penso che questo porti a una crescita del movimento o quanto meno dello sperlo in qualche modo comunque siamo quasi in chiusura siamo già un'ora di chiacchierata io se non vi dispiace volevo fare un piccolo inciso dedicato a una persona che è in silenzio da qualche minuto che è Marco Gergo che è uscito proprio ieri con il suo nuovo romanzo anche lui quindi Marco dici anche qualcosa di Io sono una Yanara che è il tuo nuovo romanzo appena uscito pubblicato per Dark Abyss Edizioni grazie ero in silenzio perché ascoltavo riflettevo e apprezzavo allora Io sono una Yanara cioè io personalmente non sono una Yanara ma il titolo del testo come giustamente ci dice Michele appunto Io sono una Yanara per la Dark Abyss Edizioni e se vi piacciono sono questioni legate alle streghe di Benevento culti neopagani ma soprattutto una buona dose io dico di di femminismo perché ho notato che facendo dei video sul femminismo su TikTok i maschietti si scatenano diventa una cosa proprio ai limiti della follia ma perché questa è soprattutto una storia di rivalza femminile e vi invito a leggere questo testo appunto per Dark Abyss Edizioni tanto la figura della strega a me piace piace in generale non è detto che sia per forza un testo semplicissimo come non semplice di difficile lettura ma semplice nel senso sicuramente ne ricorderemo dell'antropologo culturale ne è venuto fuori questo diciamo questo testo quindi ecco Cicali ci sarebbe anche lavoro per lei volendo io non vedevo l'ora di leggerlo a scatola chiusa ora che mi dici che cita anche le Wiccan possiamo direlo Michele io ho un racconto sull'Europa Nera 3 il terzo nome che comprende anche le Wiccan quindi mi trovi molto molto vicino alla magia la magia diciamo così del bianca del c'è il mezzo Arise Scrolli c'è tutti la seconda guerra mondiale cose degli Wiccan scusa tu se lo sbaglio avevi scritto anche manuale infatti ai bambini noi continuiamo a leggere la solita storia insegnamogli un gadget quello credo sia veramente un capolavoro volevo dire Marco ne riparleremo poi con calma ne riparleremo con calma appena avremo letto il tuo romanzo iniziano con una versione ridotta del necronomico poi si va avanti e tutto il resto penso che sia una cosa attesa non solo da noi dai senti Simone giusto una cesura in tre minuti tu sei sei stato anche animatore della scena dei sottotitoli diciamo per per le serie tv sei un appassionato di serie tv da tanto tempo hai citato varie cose ma soprattutto i confini della realtà ci fai una serie un nome di una serie che hai visto recentemente e che ti ha convinto che dovremmo guardare e dici anche in due minuti perché dai giusto per fare una cosa velocissima allora allora vado sul mainstream il problema di tre corpi il problema di tre corpi però dopo aver letto il libro e dopo aver visto la serie cinese perché c'è una serie cinese in libera visione fatta da in cina siccome è ambientata in cina come è ambientata il libro nonostante il fatto che la serie dei tre corpi quella di netflix credo sia prime non mi ricordo che l'ho vista sia sia adattata benissimo una serie tipo della bbc che sembra fatta dalla bbc per l'altissima qualità years and years dopo questo tempo vi parlo anche years and years e non è stata instupidita che è una cosa stranissima per un adattamento dal libro orientale a opera occidentale ed è stata fatta molto bene è stata fatta molto bene però va vista anche la visione cinese perché ci sono metà libro metà dell'opera metà della trilogia tra i corpi è filosofia e i cinesi l'hanno affrontata molto meglio questo fatto della strategia della filosofia e di quant'altro se ho tempo vi dico anche di years and years serie di qualche anno fa si si l'avevi parlato a volte che spezza le gambe cercare di assicurare io diciamo scusa ma siamo chiusurissimi con i tempi mi chiedo un saluto da tutti quanti e ringrazio è bellissimo fa male perché è vero allora guarda ciao a tutti buona sento malissimo non lo sento più allora io intanto vi saluto ciao prendetemi i libri fatemi fare successo visto che è l'unica cosa che Michele mi dice mi manca comprate comprate un caro saluto a presto ciao Michele non ti si sente mi dispiace salutiamo noi al posto tuo Michele sta facendo ciao con la mano no neppure quello ciao a tutti grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti